Il principe William ha fatto una faccia coraggiosa lunedì sera, quando è apparso a un evento reale poche ore prima della messa in onda di un controverso documentario della BBC su di lui e suo fratello Harry.Il duca di Cambridge, 39 anni, ha partecipato al BFA South Bank di Londra per gli annuali Task Conservation Awards. L'evento ha celebrato i principali protettori della fauna selvatica dell'Africa e il futuro re ha consegnato i premi ai vincitori.Il suo arrivo è arrivato poche ore prima della messa in onda di un documentario sulla sua relazione con il principe Harry. The Princess and the Press è un documentario in due parti diretto da Amol Ryan, andato in onda su BBC2 stasera alle 21, con la seconda puntata prevista per lunedì prossimo. Copre la relazione tumultuosa dei fratelli in seguito alla decisione dei Sussex di abbandonare i doveri reali l'anno scorso. Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha affermato che alla famiglia reale non è stata data la possibilità di vedere il documentario o di rispondere a qualsiasi affermazione fatta al suo interno. Si sostiene che i membri della famiglia reale, tra cui la regina, il principe Carlo, William e Kate, duchessa di Cambridge, siano infastiditi dal fatto che non gli sia stato concesso il diritto a una prima visione, né il diritto di rispondere. Il Mail on Sunday riporta che il documentario è chiacchierone e che la regina è rimasta sconvolta dal litigio in corso.